Belle e belli di Zio Vince, un po' di tempo che non mi faccio vivo. Purtroppo recentemente ho avuto un piccolo acciacco, un piccolo incidente, lo chiamo piccolo, in realtà piccolo non è stato, però diciamo che se sono qui a raccontarla è perché ho usato tutto quello che conosco a livello di pensiero positivo. Uno dice ma che c'entra con la salute e il pensiero positivo? Beh, aiuta sicuramente quando sei in momenti particolari in cui diciamo le cose non vanno bene, usare tecniche di base come va tutto bene, va tutto ok, no, va tutto bene, va tutto ok, che tu lo ripeti proprio perché aiuta a cambiare frequenza e il cancella, cancella, cancella quando ti arrivano i pensieri negativi, che non si ricorda la tecnica, non l'ha mai sentita, una tecnica molto potente per deprogrammare in tempo reale pensieri negativi, la trovi nel video deprogrammazione quantica, basta che lo cerchi su YouTube, queste sono tecniche semplici di base che ti aiutano in certi momenti proprio a cercare di mantenere una frequenza positiva. Il fatto della frequenza positiva, magari questo sarà il tema di questo video, è un po' che non faccio un video, quindi adesso che mi sento meglio, sono ancora un po' in comalescenza, ma ho approfittato di questo video per dire, vabbè, oltre a dire il perché io sono fuori da YouTube da un po' di tempo, perché purtroppo è stata una bella mazzatina, e poi prima ancora di sta roba stavo lavorando al nuovo libro, il nuovo libro ormai è quasi finito, sarà veramente una sorpresa, sarà qualcosa di straordinario, sto ancora li mando un capitolo per degli esercizi importanti, e sarà qualcosa di nuovo, allo stesso tempo di vecchio, cioè riprendo argomenti diciamo sempre a me cari, come la mente quantica, eccetera, eccetera, ma a un certo punto vedrete che prendo una direzione completamente diversa, perché parlerò di alcuni aspetti della mia vita, alcuni incontri allucinanti che ho avuto, delle cose straordinarie, che qualcuno addirittura dirà, ma non è possibile, questo ragazzo crede a tutte queste cose, e vabbè, chi se ne frega, uno può credere, ma non crede a chi se ne è fotte, e questo qua sarà un libro particolare, sarà un libro che da un certo punto di vista sarà un proseguimento, ma anche una rottura con determinate cose che ho sempre fatto in passato, e quindi mi raccomando, attenzione che con la mia editor stiamo anche pensando di fare tutta una serie di video ad hoc, proprio per cominciare a parlare degli argomenti di questo libro, quindi occhio. Benissimo, allora io, vabbè, questo video era da un lato per, insomma, informare il canale, perché è questa assenza, tra il libro da fare, quello che mi è accaduto, questo acciacco, mica da ridere, però mi sto riprendendo, tutto a posto, anzi, ho un nutrizionista, un medico nutrizionista che è un figo, un figo pazzesco, mi sta rimettendo in piedi in una velocità della luce, anche perché avevo promesso una diretta al 60.000, iscritti, mi avevate anche iscritte le domande, poi non ho potuto più fare perché è successo quello che è successo, e niente, quindi appena starò in perfetta forma, perché per fare una diretta di un'oretta bisogna stare bene, tranquilli, poi soprattutto alla sera, la sera proprio sento la necessità proprio di riposare, di recuperare energie, quindi non è proprio il caso di fare una diretta la sera, e quindi abbi pazienza, qualche settimana voi faremo un mega, una mega diretta di quelle giganti, una roba pazzesca, e certo, uno dice, potevi farci gli auguri di Pasqua, ma tutti fanno gli auguri di Pasqua, cioè a un certo punto te li posso fare anche adesso, cioè un po' passati, ma Pasqua è Pasquetta, spero che ti sia divertito, che sia stato bene, insomma, mi auguro questo per te, però ho detto che senso ha, che facciamo tutti, fondamentalmente, ho preferito aspettare un pochino, ho preferito fare, insomma, informarti anche di diverse cose, no? Che se ti do fare gli auguri, ti faccio gli auguri, punto, invece voglio fare un video che fosse un po' più completo. E detto questo, insomma, oggi come argomento ti volevo parlare di quanto sia importante proprio lo stato interno. Proprio in merito alla generazione della realtà, la co-creazione della realtà, è veramente fondamentale, qualcosa di incredibile. Noi questa cosa la sottovalutiamo tanto, noi pensiamo sempre le tecniche, Sì, le tecniche vanno bene, tipo, parlavo prima, va tutto bene, va tutto ok, no? Con questo mantra da ripetere sempre quando siamo in stati emotivi negativi o il cancella, 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 ma queste sono tecniche di supporto. Quello che invece diventa importante è imparare a capire che quello che c'è fuori è fondamentalmente lo specchio di quello che abbiamo dentro. Per cui se io ho degli stati emotivi negativi che provo per diversi motivi, posso provarli perché magari vengo trattato male o persone negative oppure me ne capitano di cotte di crude, ma attenzione, se te ne capitano di cotte di crude, fai un passo indietro e cerca di vedere come tu vivi. Vivi in sensazioni di amore, sensazioni di gioia, sensazioni di serenità, cioè vivi in questa frequenza emotiva oppure vivi un po' incazzato, rancoroso, vivi triste. Quello è importante perché poi quello che tu provi quello ti torna indietro. Ecco, quando sento parla della legge di attrazione o quella non è mi faccio la fotografia della bicicletta, così mi arriva la bicicletta o della fidanzata o del fidanzato, è un fatto di frequenza emotiva, cioè il pensiero non accompagnato dall'emozione giusta e vaga lì per i fatti suoi. L'emozione è la cosa più importante. Oh, ricordatela sta cosa. Cioè tutto il resto è il contorno, cioè la portata principale, il piatto principale è l'emotività e quindi l'emozione vivere in frequenze di amore, di gioia, di pace, di serenità, quella di ridere. Oggi per esempio quando mi sono visto un film di Jim Carrey mi sono fatto un sacco di risate. Non tutti i film di Jim Carrey mi piacciono ma la maggior parte oggi uno me lo sono visto. Ridevo come un matto e godevo del fatto di vivere in questa frequenza bellissima, emotiva che stavo provando. Ma d'altronde il mio maestro ricordo quando conobbe mia moglie e mia moglie è sempre stata una un po' tristanzuola, no? Perché poverina, non è che ha avuto gente simpatica attorno. E poi lì è il cane che si morde la coda. Hai gente non simpatica, entri in uno stato emotivo negativo e ti continua a derivare sempre gente ed eventi non simpatici. Sempre quello il discorso. Quindi sei tu che poi devi interrompere e mi ricordo che questo mio maestro disse ma forse lo dovresti portare a vedere un po' di film comici in maniera tale che gli si accambiava la frequenza. Ecco, quindi o certo uno può dire ma Vincenzo come si fa in una situazione come questa? Situazione per esempio mondiale, economica, una situazione come non so, uno che magari ha problemi di salute. Ecco, per esempio, con quello che mi è successo che sono stato un po' di tempo in ospedale e ho visto i gotti di crude sugli altri. anche su di me qualcosa l'ho vista purtroppo e ho visto veramente persone in uno stato pazzesco e l'ho proprio percepita questa cosa ecco perché poi meno male che io conosco certe cose e ho cercato di sempre mantenermi su una frequenza particolare non solo mi alimento bene no perché tu mangi bene e poi a livello emotivo ti incazzi sei rabbioso rancoroso eccetera non è concluso niente questo lo dico cioè fai prima a farti una bella magnata al McDonald per dire che non ci vado per dire ma è quello è molto semplice il concetto quindi quello che voglio dire fondamentalmente quindi è imparare a gestire i propri stati interni tutto il resto è un aiuto che tu puoi avere ma devi diventare bravo brava a sempre andare su situazioni che ti fanno stare bene frequentare persone che ti fanno stare bene tutte quelle persone che ti creano veramente pesantezza che ti fanno stare male magari sono anche familiari potrei fare un libro sui familiari che creano pesantezza non i miei familiari di qualcuno che conosco che ho nella mia vita che creano pesantezza persone squilibrate mentalmente perché poi c'è tanta gente che io non posso fare diagnosi perché non ho i titoli per fare diagnosi ma c'è tanta gente che a naso si capisce che non è a posto e che però vanno in giro a far danni trattano male la gente fanno violenza emotiva e tutto questo si tramuta poi in in chi è più vulnerabile che queste queste persone queste tra virgolette vittime e poi vanno a generare non solo stanno male loro poi lì ci sarebbe da parlare con Bruce Lipton oppure Candy Spert nel libro La Biologia delle Credenze ma scusate La Biologia delle Credenze è Bruce Lipton Molecole di Emozioni di Candy Spert sono dei libri fantastici che ti dimostrano scientificamente come un'emozione ha una base ha una base biochimica vera e ha un impatto sul tuo corpo cioè tu stai male emotivamente nel tuo corpo la biochimica impazzisce cioè viene fuori hai lo schifo nel sangue praticamente che ti va a rovinare praticamente ti avvelina giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno quindi l'importanza invece ecco a questo punto vedi ci vengono incontro anche questa neuroscienziata se non ricordo male la Pert ci viene incontro con la Biologia delle Credenze cioè ridaglie molecole di emozioni no ci viene incontro anche lei e ci spiega questo libro bellissimo e quanto è importante invece pensare bene te lo consiglio mi pare che la Pert non ci sia più mi pare che sia passata la miglior vita se non ricordo male adesso vado un po' a memoria e questo ti volevo dire insomma poi nei prossimi video cercherò di di fare altri contenuti tempo di rimettermi a posto definitivamente bene facciamo sicuramente un piano proprio dei titoli facciamo proprio delle serie questa è un po' l'idea è la cosa migliore no perché così c'è più struttura e sicuramente faremo quella quella diretta magari nei prossimi giorni se sono ancora in vena magari un altro video lo faccio per salutarti e per darti qualche altra dritta importante mi raccomando eh mi raccomando quello che tu provi crea la tua realtà e quindi mi raccomando cerca di stare con persone cerca di stare in situazioni che ti fanno stare bene e appena ti accorgi che comincia ad entrare in uno stato negativo di qua di là ok accoglilo accoglilo perché lottare non serve a niente lo accogli lo riconosci ci vai dentro dici ok va bene perfetto ok poi dopo che ti sei fatto il tuo momento tra virgolette di lutto prendi e dici ok adesso stop ora cambio mi guardo un film chiamo l'amico che mi fa star bene vado a farmi un giro fuori vado in mezzo alla natura fai qualsiasi cosa ti faccia stare bene io voglio che tu capisca una cosa fondamentale noi abbiamo probabilmente come energia come anime una vita non so se infinita ma insomma andiamo oltre queste vite probabilmente affermano alcuni ma di sicuro però in questo momento siamo su questo piano di esistenza e su questo piano di esistenza cerchiamo di stare bene ok e quindi godiamocela viviamo bene diamo un calcio nel sedere tutte quelle persone squilibrate mentalmente che ce la rendono difficile e viviamo la nostra vita poi per carità potremmo parlare del fatto che nulla viene per caso che magari fa parte del nostro karma avere queste persone i nostri migliori maestri sono proprio i nostri nemici su questo assolutamente va sempre preso in considerazione cioè non è che io devo tagliare d'ambleco la gente devo sempre cercare di capire l'insegnamento positivo che c'è dietro ed evolvere perché comunque c'è il karma c'è il dharma e tutto quanto e questo questo va benissimo però devo anche difendermi in qualche modo e quindi anche limitare la frequentazione di certe persone e anche sottopormi a certi aventi ad esempio ieri parlavo con una persona a me molto cara al telefono mi diceva che era molto scazzata e gli ho detto ma qual è il problema prendi e vatti a fare un weekend fuori ma anche fosse una roba nelle vicinanze un B&B a mezz'ora così eh ma il mio fidanzato è uno un po' col fondo schiena pesante non organizza mai nulla fagli una sorpresa vai su Booking prendi gli fai la sorpresa e si beh a volte noi ci crogiogliamo rimaniamo in quello stato invece devi uscire da quello stato cioè più stiamo là dentro e più ci crogioliamo in quello stato e allora ci vuole quel colpo si dice colpo di reni per uscire da quella situazione lì e finalmente cominciare a cambiare qualcosa nella nostra vita beh adesso ti saluto davvero un abbraccio forte dallo zio Vince bacione molto strano con un risucchio strano non si capisce dai ci vediamo presto mi fa piacere se mi scrivi qualcosa qui mi fai delle domande magari mi dai delle idee anche per qualche nuovo video nei prossimi giorni magari qualcosa anche di più corto da fare qui sono venuti quasi più di 15 minuti di video madonna ok un abbraccio alla prossima ciao